Un benvenuto da tutto il gruppo Zatti. Oggi siamo presso la nostra sede di Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi, per presentarvi solo alcune delle nostre vetture usate e chilometri zero presente nei nostri saloni. Cominciamo con questa Lancia Y112 Silver, chilometri zero, climatizzata, perfetta per i neopatentati. Potrà essere vostra a soli 10.500 euro. E ora abbiamo un Jeep Renegade 1.6 turbodiesel del 2015, ancora in garanzia della casa, con soli 31.000 chilometri, cerchi in lega, vettri scuri e barre portatutto, a soli 21.300 euro. E ora proseguiamo con un BMW X1 2000 turbodiesel, con cambio automatico, interno in pelle, cerchi in lega, con 177 cavalli e 100.000 chilometri, a soli 21.000 euro. E ora abbiamo un Mercedes Classe E Cabrio, del 2012, con 50.000 chilometri, interni in misto pelle, cambio automatico, full optional, a soli 30.500 euro. E ora abbiamo un Lexus CT 1.8 Hybrid, del 2014, con 73.000 chilometri, con cerchi in lega, pelle al cantare a chiara e cambio automatico, a soli 21.500 euro. E ora vi presentiamo una fantastica occasione per i neopatentati, una Toyota Ego 1000, con soli 41.000 chilometri, del 2013, 5 porte, a soli 6.800 euro. E questo può essere un perfetto regalo di Natale per la vostra fidanzata, una Golf 1.6 turbo diesel del 2011, con soli 46.000 chilometri, con cappotta elettrica, sensori di parcheggio anteriori-posteriori, a soli 15.800 euro. Vi ricordiamo che presso le nostre sedi abbiamo circa 600 vetture tra usate e chilometri zero. Inoltre abbiamo una parte dedicata per i fuoristrada e le vetture 4x4, come questo Hammer H3, 3.700 benzina del 2007, con soli 58.000 chilometri, interni in pelle e cambio automatico, a soli 18.000 euro. Ed ora non vi resta che venirci a trovare nelle nostre sedi di Parma, Guastalla, Lentigione e Reggio Emilia e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.gruppozatti.it E ora un saluto da Sonia e da tutto il Gruppo Zatti.